Attacco russo a Odessa, ci sono morti e feriti. Nel primo giorno delle presidenziali russe, gli ucraini colpiscono seggi elettorali nei territori legalmente occupati. Non escludiamo l'invio di truppe a Kiev a tornare a ribadire Macron. Se la Russia vince, l'Europa perde credibilità a disaccordo con gli alleati sugli aiuti militari. Gaza ha 20 morti tra civili in coda per aiuti umanitari. Israele nega di aver sparato, intanto Abbas nomina un nuovo primo ministro. È salito a 16 il numero delle vittime dell'attacco russo di venerdì 15 marzo a Odessa, in Ucraina. Lo ha confermato nel corso di una diretta televisiva il governatore regionale di Odessa, Alieg Kiper, aggiungendo che altre 55 persone sono state ricoverate negli ospedali locali, 10 in gravi condizioni. Colpita nel primo giorno delle elezioni presidenziali russe, la regione di confine di Bielgorod. La commissione elettorale regionale di Kherson, in Ucraina, ha riferito che i soldati ucraini hanno attaccato seggi elettorali a Kakovka e Brilievka, nelle aree illegalmente occupate dai russi, per le elezioni presidenziali, iniziate venerdì 15 marzo nella federazione russa e nei territori occupati. Gli attacchi di Kiev contro la Russia non resteranno impuniti, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia di stampa TASS, aggiungendo che l'Ucraina non riuscirà a rovinare le elezioni presidenziali russe, illegali nei territori occupati in Ucraina. Non escludo l'invio delle truppe francesi in Ucraina. La Russia non può e non deve vincere, è tornato a ribadire il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista alla televisione nazionale. Per Parigi la stessa sicurezza della Francia si gioca in Ucraina. Una vittoria della Russia ridurrebbe la credibilità dell'Europa a zero e la vita dei cittadini francesi ed europei non sarebbe più la stessa. I rapporti tra Cremlino ed Eliseo sono ai minimi storici. Non tutti gli alleati di Kiev la vedono allo stesso modo. L'Italia ha replicato attraverso il ministro per gli affari esteri Antonio Tajani che esclude la possibilità di inviare militari in Ucraina. Ma in particolare è salita la tensione con la Germania dopo il rifiuto categorico del cancelliere Olaf Scholz sull'invio dei missili a lungo raggio Taurus. Macron ha invitato gli alleati a non essere codardi, un commento che ha fatto infuriare Berlino già in disaccordo con le precedenti affermazioni di Macron. Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina più di 20.000 soldati feriti sono passati per l'ospedale Mechnikov di Dnipro. Ognuno ha una storia diversa ma tutti hanno in comune le ferite della guerra. Come Mikola che lavorava come programmatore a Leopoli e pensava che a causa di quelle ferite sarebbe morto. I medici che lavorano nella struttura l'hanno soprannominata la fabbrica della sopravvivenza. Qui l'unico obiettivo è curare i pazienti a qualunque costo anche quando suonano le sirene che avvisano di imminenti attacchi aerei. Ma qualcuno potrebbe considerarla una fabbrica di orrori. La quotidianità è rappresentata anche dalla capacità sviluppata dal personale sanitario di comprendere l'andamento della guerra dal numero di feriti in arrivo e dal via vai delle ambulanze. Gli agricoltori polacchi sono tornati a bloccare le frontiere venerdì, questa volta con la Slovacchia. Protestano contro l'entrata nel mercato europeo di grano proveniente dall'Ucraina, ma anche contro gli obblighi ambientali imposti al settore dal Green Deal sul clima. Sono in arrivo delle proposte della Commissione Europea per modificare la politica agricola comune. L'intento è di alleggerire gli oneri per gli agricoltori e offrire flessibilità sugli obiettivi verdi, ha assicurato la presidente von der Leyen al premier polacco Tusk in una telefonata venerdì. Oltre 110 milioni di persone sono chiamate alle urne in Russia dal 15 al 17 marzo per eleggere il presidente che guiderà il paese per i prossimi sei anni. Per la prima volta le urne saranno aperte per tre giorni, scontato l'esito del voto che con ogni probabilità vedrà vincitore per la terza volta consecutiva il capo del Cremlino, Vladimir Putin, già al potere da 24 anni. Aperti seggi anche all'estero e nei territori occupati dell'Ucraina. L'attuale presidente non ha nessuno sfidante in grado di tenergli testa. Putin si prepara così ad essere riconfermato per un quinto mandato con la possibilità che venga prolungato ulteriormente per altri sei anni fino al 2036 come prevede la Costituzione russa. Nel paese e non solo il presidente russo è riuscito a mettere a tacere qualsiasi tipo di opposizione. Meno di un mese fa la morte è sospetta del suo principale oppositore Alexei Navalny. Solo mercoledì scorso a due giorni dalle elezioni l'aggressione a Vilnius in Lituania ai danni di Leonid Volkov collaboratore di Navalny. Nei mesi scorsi la commissione elettorale centrale russa ha escluso dalla corsa al Cremlino tutti i probabili oppositori. L'ultimo in ordine di tempo Boris Nadezhdin il candidato apertamente contrario al proseguimento della guerra in Ucraina. Almeno 20 persone sono state uccise più di 150 ferite in un nuovo attacco avvenuto a Gaza contro civili che si trovavano in coda per ricevere aiuti umanitari. A spiegarlo è stato il ministero della salute di Hamas secondo il quale a sparare sarebbero state le truppe israeliane. Tel Aviv però nega la ricostruzione e fa sapere che i fatti sono attualmente oggetto di un'indagine. Intanto il leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina Mahmoud Abbas ha nominato un nuovo primo ministro Mohamed Mustafa uomo d'affari e suo stretto collaboratore. Quest'ultimo ha ora il compito di formare un nuovo governo il cui potere è però limitato geograficamente alla sola Cisgiordania. Secondo alcuni si tratterebbe di un tentativo sostenuto anche dagli Stati Uniti di volgere lo sguardo al dopoguerra. Washington ha intanto imposto sanzioni contro tre coloni israeliani in Cisgiordania accusati di molestie e aggressioni nei confronti dei palestinesi. Il presidente Biden deve difendersi da una crescente ondata di malcontento per il sostegno politico e militare a Israele con la situazione umanitaria a Gaza che è ormai devastante. Venerdì in nero per diversi ristoranti McDonald's colpiti per ore da guassi al sistema tecnico degli ordini. Un'interruzione di sistema ha costretto il colosso statunitense dei fast food a chiudere momentaneamente alcuni locali in Asia e in altri parti del mondo dagli Stati Uniti al Regno Unito. McDonald's Corp con sede a Chicago ha affermato che i problemi non sono stati legati a un attacco alla sicurezza informatica della multinazionale. La manipolazione di immagini e video per creare contenuti a sfondo sessuale sta per essere considerata un reato penale in tutti i paesi dell'Unione Europea. La prima direttiva passerà alla fase finale di approvazione nell'aprile 2024. secondo lo studio State of Deepfake su un campione di oltre 95.000 video Deepfake canalizzati tra il 2019 e il 2023 l'aumento dei contenuti era del 550%. Con la proposta di una nuova direttiva tutti i 27 stati membri avranno lo stesso pacchetto di leggi per criminalizzare le forme più disparate di cyberviolenza come i Deepfake a sfondo sessuale. Il problema è che potresti avere una vittima che è situata in Bruxelles hai il perpetrator che è in California e negli USA e hai il servizio che sta portando il contenuto in magari let's say l'islanda quindi diventa un problema globale perché stiamo parlando con diversi paesi cosa deve essere in parallelo con la direttiva è che bisogna aumentare la cooperazione con altri regioni con altri perché è la prima che possiamo combattare crime che non vedo alcuni limiti infortunatamente l'ai tecnologia è sviluppo molto presto che significa che anche la legislazione deve continuare condannato per omicidio colposo il padre dell'assassino della scuola superiore di Oxford nel Michigan la madre del tiratore era già stata condannata a febbraio James e Jennifer Crumbly sono i primi genitori statunitensi ad essere riconosciuti responsabili di una sparatoria di massa in una scuola eseguita dal figlio Ethan Crumbly all'epoca a 15 anni ha preso una pistola da casa e ha ucciso quattro studenti nel 2021 l'accusa ha dimostrato che la pistola non era stata messa al sicuro dai genitori Ethan sta attualmente scontando una condanna all'ergastolo per omicidio e terrorismo